Passiamo adesso al CEO dell'anno Insurance. Il premio va a Patrick Cohen AXA Italia e andiamo a leggere la motivazione. Per confermarsi per il terzo anno consecutivo il miglior CEO in ambito assicurativo per la spinta continua ad innovare l'esperienza cliente grazie a tecnologie digitale ed essere stato pioniere nella diagnostica consentendo un'offerta completa dalla prevenzione alla riabilitazione garantendo alti livelli di servizio lungo tutto il percorso sanitario su un fronte particolarmente importante in questo momento storico e di valore sociale come la salute per l'attenzione costante ai propri dipendenti, alle reti distributive e alla comunità anche nel periodo segnato dal covid-19 facendo sì che AXA sia davvero la casa fuori casa. E questo è il motivo per cui non l'ho salutata ancora Patrick Cohen ancora complimenti quindi ritorno da lei e mi aggancio all'ultima parte della motivazione che ho appena letto il fatto che AXA sia davvero la casa fuori casa partiamo da qui e poi naturalmente chiedo un commento a caldo anche sul riconosciuto. Ma sì noi abbiamo una cultura nel quale l'ingaggio e sentirsi parte di un'azienda è qualcosa di assolutamente centrale abbiamo in particolare in questi tempi molto duri e in questa crisi del covid provato in tutti i modi di dimostrarlo c'è stata grande solidarietà tra i colleghi a grande umanità e quindi ci siamo sentiti appunto nella casa fuori della casa. Grazie. Noi andiamo un istante in pubblicità e poi torniamo e continuiamo con i Le Fonti Awards. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.